Siamo noi la famiglia Hey, come state? Nel video di oggi Chiara regala un aveto di cioccolata a Vittoria che si arrabbia con Papa Fedez perché non vuole darglielo Intanto Chiara si diverte un po' Vi lascio al video, buona visione Sì, mamma Non è mio papà Cosa è il tuo papà? Non posso mangiare l'uovo? E la mamma? Sì Ma scusa, perché il papà no? Tutto per te, amore Tutto per te Tutto per me? No, per me Ah, ok, pensavo tutto per me Hai mangiato tutto l'uovo? E per il papà? Ah, niente, questo qui, va bene Un po' di amore ce l'hai da dare al papà? Neanche un po' di amore? Un po' di amore? Niente, un cuoricino? No Un bacino? No Un po' di simpatia? No, neanche quella Però Però Ah, io so che c'è una cosa per il papà Hai Hai Tutto l'affetto del mondo? Ce l'hai per il papà? No No, ok Un pezzo di cioccolato, amore Per papà era Ma era per papà Ma era per papà Dai di questo papà A papà A papà Ho detto Ah, mi dici pure che è buono Ah, e questo qui io mi dovevo mangiare Quello tutto sbausciato da te Senti, io ti ridò il cioccolato Ma tu mi dai un po' di amore? Perché no? Però guarda che carino Mi sono fatte le lentigini Perché? Perché sono più cute Ah, è una cosa che va di moda adesso Ma queste le facevo da quest'estate È bello che le hai notate Ah Amore, ma sono stupende queste lentigini Se ti è piaciuto il video Lascia un like Ed iscriviti al canale Ciao